Ciao ragazzi e bentornati a Open Music 360 Review. Io sono Paso e oggi guardiamo insieme la nuova tappa del percorso solista di Miles Kennedy, The Hides of March, in uscita per Napalm Records, un album che ha molte somiglianze col suo predecessore ed esordiente Hero of the Tiger. Punta molto sull'aspetto cantautorale e va ad abbandonare quelle che sono le caratteristiche degli altri progetti dei quali Frontman fa parte come Alter Bridge e il Featuring con Slash e The Cospirator, quindi niente chitarre distorte e niente drumming potente. Anche se la partenza con Get Along dà un'impressione, dà un'idea diversa perché è molto spigliata ad un timbro decisamente Hard Rock, ma questo viene stemperato nel corso dell'album da un'impregnatura sempre più importante di tonalità country, southern rock ma anche blues e jazz, fino a uno dei singoli ovvero In Stride che è un esempio lampante di tutto questo. Poi arriva la title track The Hides of March, un brano che meriterebbe un'analisi a parte al di fuori di questa recensione perché vive nei suoi sette minuti abbondanti di vita propria, di fasi alterne che la rendono quasi epica questa canzone. Troviamo l'inserimento di una chitarra blues a tratti jazz, la voce di Miles che si estende in maniera imperiosa e un testo delle liriche che vanno a raccontare tutto quello che sta accadendo al mondo in questo anno e lo mettono a paragone di un altro momento topico della storia umana e in particolare dell'impero romano ovvero l'assassino di Giulio Cesare appunto Lady di Marzo. Prosegue con altri brani più calmi, più tranquilli come Wake Me When It's Over dove si avverte questo blues molto malinconico e Moonshot. Ecco, Miles Kennedy ha voluto affrontare il periodo di pandemia componendo un album che racconta quelle che sono le relazioni umane, tutta la socialità che è mancata in questo anno di pandemia e che molti di noi se non tutti sperano di ritrovare il prima possibile. La prova vocale del frontman è come sempre strepitosa ma credo che sia uno di quegli artisti che possa permettersi di fare qualsiasi cosa e gli riuscirà sempre bene. Per me è un album per i testi, per la musicalità, per l'armonia che riesce a creare, per l'empatia che riesce a trasmettere un album da otto e mezzo. Vi consiglio l'ascolto nella massima tranquillità di casa vostra perché merita davvero un'attenzione particolare. Se siete d'accordo con me o in disaccordo come sempre potete commentare. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanellina perché come vedete usciamo sempre con del nuovo materiale. Seguiteci su tutte le nostre pagine social. Alla prossima da Paso e cheers anche senza il bicchiere. Ciao ragazzi!